Uomini e donne, la scelta di Federico Scatena dubbi dei fan, ha già prescelto Carola. Si avvicina la scelta finale di Federico Nicotera a Uomini e Donne e piovono critiche e polemiche da parte dei fan della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi. Le registrazioni del talk show sentimentale riprenderanno il prossimo lunedì 6 marzo e si partirà proprio con la fatidica e ormai attessissima scelta finale del giovane tronista romano. Chi sarà chiamato a svelare il nome della ragazza con la quale intende costruire un percorso fuori dallo studio televisivo? Nel dettaglio, dopo un periodo di pausa, Maria De Filippi ritornerà al suo lavoro e le nuove registrazioni di Uomini e Donne sono attualmente previste nelle giornate del 6 e 7 marzo. Si partirà lunedì pomeriggio con la fatidica registrazione della scelta di Federico, il tronista sarà chiamato a scegliere la ragazza con la quale sente di avere maggiori affinità e con cui è disposto a costruire una storia d'amore. Lontano dai riflettori del talk show di Canale 5. Le due pretendenti che sono riuscite a giungere al rush finale di questa avventura sono Alice e Carola, pur essendo molto differenti l'una dall'altra. Hanno saputo far breccia nel cuore del giovane tronista. Ma chi sarà la fortunata ad avere la meglio nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 6 marzo? I fan social della trasmissione sembrano non avere dubbi in merito a chi sarà la scelta finale del tronista romano. In tantissimi, infatti, si dicono convinti del fatto che Federico abbia già fatto la sua scelta nel corso delle ultime puntate del talk show trasmesse su Canale 5. Quando si è più volte emozionato durante le esterne con Carola ed è rimasto spezzato nel momento in cui la ragazza ha deciso di scrivergli una corata lettera d'amore. Ormai è chiaro e palese che Federico ha già prescelto Carola, non c'è partita con Alice. Ha scritto un utente sui social in merito alla scelta finale del tronista. Tra Federico e Carola c'è un'attrazione e un'affinità che ormai non si può più nascondere. È chiaro che il tronista ha perso la testa per la biondina, ha scritto un altro spettatore social del talk show. Povera Alice, tenuta in studio fino alla fine e dopo tutto questo tempo per assistere a questa storia d'amore tra Carola e Federico. Ormai innegabile, ha commentato ancora qualcun altro sul web. Federico avrebbe dovuto chiudere prima questo percorso, dato che è palese a tutti il suo interesse nei confronti di Carola. Ormai l'ha già scelta da un pezzo, ha scritto un altro spettatore del talk show. Grazie a tutti. Grazie a tutti.